Bisogna vivere il tempo che ci è stato dato con tutte le sue difficoltà. È la frase di Aldo Moro incisa sul marmo bianco del monumento di Piazza San Francesco a Pistoia. Parole di grandissima attualità in questi tempi di emergenza sanitaria che sono risuonate in occasione della cerimonia per la strage di Via Fanei. Un momento curato dal Comitato Unitario per la Difesa delle Istituzioni Repubblicane, il Cudir, il Comune di Pistoia del Centro Studi Donati. La commemorazione alla presenza delle massime autorità locali è stata nel 43esimo anniversario della strage dove avvenne il rapimento di Moro e l'uccisione degli uomini della sua scorta. I loro nomi, Domenico Ricci, Oreste Leonardi, Raffaele Iozzino, Giulio Rivera e Francesco Zizzi, scritti sulla pietra al fianco di quello del ex presidente della DC, sono lì a ricordare il valore della memoria in un tempo difficile come quello che stiamo attraversando, ma comunque da vivere. Il mondo non può fermarsi, la nostra vita non può fermarsi. Ricordare persone come Aldo Moro che si sono battute per valori democratici e di libertà è fondamentale. Anche in un periodo del genere in cui siamo fortemente, ovviamente, privati di determinate libertà, per forza di cosa, a causa della pandemia, però ricordare persone come Aldo Moro è fondamentale. Anche per noi giovani che non abbiamo potuto, durante il percorso scolastico, studiare queste personalità così importanti per la nostra Repubblica e per la nostra vita. Sono persone che hanno segnato la nostra storia, la storia del nostro paese e hanno segnato anche profondamente noi giovani. Perché è anche grazie a persone come Aldo Moro che hanno pagato con la vita anche un prezzo eccessivo che noi abbiamo determinati diritti e determinate libertà democratiche.